Gianni Aversano stasera al Casale di Teverolaccio ha cantato Guccini, perché proprio Guccini? Io con Guccini sono nato, ho imparato a suonare la chitarra nel 84 e cominciavo proprio con le canzoni di Guccini, ma perché corrisponde molto alla mia sensibilità malinconica, piena di desiderio, di scettica molte volte, ma anche piena di speranza e Guccini descrive bene queste situazioni dell'anima, cioè di un uomo che si guarda intorno e vede che tutto muore, tutto è un'illusione, però ci sono dei punti sempre da guardare che ti fanno rinascere e poi è bello pure il Guccini romantico quando parla d'amore, perché lo fa senza, non è melenzo, ecco, riuscire a dire non sono quando non ci sei, la frase d'amore è più bella, non è tu sia vita mia, è nata cosa, non sono quando non ci sei fa parte dell'essere, cioè il mio essere non c'è se non ci sei tu e quindi questa profondità qui mi riguarda, perché poi Leopardi, Montale sono i poeti a me cari e Guccini li mette tutti dentro, per questo. Questa è una terra di maschere, terra di fabule, lei è un'artista che parte da qui, dall'area Tellana, dove finisce la maschera Inizia Gianni Aversano? No, allora io sono me stesso quando sto sul palco, ossia quando sto sul palco, siccome mi sento una responsabilità di fronte a quelli che ci stanno, allora dico tutto quello che è vero di me e non ho vergogna, pure la parte ridanciana, perché stasera ho fatto cucini, ma io sono esperto di macchiette, di pulcinella, sul palco, ecco, per il fatto che c'è gente che ti ascolta, lì non puoi essere falso, cioè il contrario di quello che si pensa, che sul palco reciti, invece io nella vita un po' mi nascondo, un po' tendo a camuffare le mie fragilità, sì, pure i miei mali, invece sul palco è come quando tu parli a un figlio, parli a un amico, e allora dico questa è l'occasione per dire la verità, la verità mia, quindi la maschera finisce quando salgo sul palco. Che cosa c'è nel futuro di Gianni Aversano? L'estate è il momento in cui si fanno più concerti, siccome io ho la fortuna di aver un po' il mio verbo diffuso in tutta Italia, avrò delle occasioni in Lombardia, a Termoli, Roma con Ambrogio Sparagna, però le date a noi più vicine sono l'8, il 9 luglio, non mi aspettavo questa domanda, non ho la mia argentina a prezzo, però il 9 luglio, mi raccomando perché la cornice è sempre bella, a Portici, alla Reggia, lì in un chiostro bellissimo facciamo uno spettacolo, poi non ricordo le date precise ad agosto, staremo pure a Carinaro, in Puglia, nel Salento, e vabbè, per fortuna mi fanno gli applausi, mi pagano per la cosa che più mi piace fare, io la farei gratis, ma aggiungono pure questo e ben venga.